Dopo quattro anni di interruzione da domenica 9 agosto a partire dalle 6 del mattino ripartiranno i treni che collegano Campobasso a Termoli e viceversa. A darmi notizia questa mattina in una conferenza stampa ha convocato proprio alla stazione del capologo regionale il governatore Toma insieme agli assessori di un cianzionino, e al direttore del quarto dipartimento Manuel Brasiello. Finalmente quello che avevamo preannunciato cioè che saremo arrivati a riaprire in accordo chiaramente con RFI, con Rete Ferroviaria Italiana, la tratta Campobasso-Termoli è una realtà. Il 9 agosto possiamo andare in treno a Termoli passando e fermandoci a Campolieto, a Matrice a Campolieto, a Casacalenda e a Larino e viceversa. Toma ha ribadito che il suo governo si è insediato con il problema a Ferrovie, ma che il 23 luglio 2018 è stata inviata alla Convenzione per le Opere sulla tratta Rocca-Ravindola-Isernia-Campobasso. Dal 15 giugno 2019 sono iniziati i lavori di ammodernamento per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea. Circa 88 milioni di lavori per realizzare il progetto che Toma ha tenuto a precisare è iniziato con il governo Frattura, ma che con l'amministrazione attuale è stato velocizzato nei tempi e nella pratica per consentire di arrivare entro la fine del 2021 a completare l'elettrificazione di tutta la tratta da Rocca-Ravindola a Campobasso. Significa questo che in tre ore i molitani saranno a Roma o a Napoli. Oggi la presentazione del tratto Campobasso-Termoli con servizio viaggiatori a Matrice, Campolieto, Casacalenda e Larino. Prossimo step in attesa di ammodernarla per intero, l'eliminazione dei passaggi a livello a Campobasso e Boia. Ci sono i progetti, ci sono gli accordi scritti, mancano le firme. Quindi se daremo la validazione noi Regione e RFI a questi progetti che sono stati concordati, a breve ci sarà la firma anche del progetto e partiremo con l'eliminazione a Campobasso di tre passaggi a livello e con la riduzione dei passaggi a livello che da Campobasso abbiamo fino a Rocca-Ravindola. Poi il sogno, la Transbifernina, progetto sul quale in realtà il Governo regionale sta ragionando soprattutto per il tracciato merci. Ma ancora più si ragiona al progetto della Superstrada Quattro Corsie che prima del Covid era ad un passo dall'approvazione del Ministero. La Transbifernina in realtà è un sogno che stiamo nutriendo con gli assessori, con la Giunta e oserei dire anche con tutti i consiglieri perché ne parliamo. La Transbifernina è un sogno, insieme alla Quattro Corsie potrebbero davvero risolvere il problema dell'isolamento e anche dello spopolamento del Molise ed è il must, come dicono gli inglesi, il compito che noi dobbiamo assolvere prima che questa legislatura si avvii al termine. Però devo anche dirle una cosa, i sogni hanno bisogno di tempo perché si realizzino e questi sogni hanno bisogno di un tempo medio-lungo. Noi dobbiamo gettare in questa legislatura le radici perché ciò si realizzi. I molisani debbono avere dopo il sogno la speranza, dopo la speranza la probabilità, dopo la probabilità la certezza. Grazie.